La Roll, oltre ad una completa linea professionale di accessori, realizza anche una linea di strumenti percussivi di altissima qualità e dalle caratteristiche uniche. Il Sonic Square, rivisitazione del tipico sonaio africano realizzato in hickory. Le clave, legnetti professionali in legno di hickory selezionato. Il Bar Chimes ha 26 e 36 campane in alluminio per un suono più brillante, collegate da un filo intercambiabile in caso di rottura e con supporto in legno o in plexiglass. L'Hood Drum, strumento tornito a mano, ispirato all'originale africano, è realizzato in un'altra parte di 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 un'altra parte. Un'altra parte di 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 un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.